Io ho visto in un'altra intervista tua, hai detto una cosa che mi ha colpito molto, che la differenza proprio tra i ristoranti in Italia e i ristoranti in America è proprio questo di cui stava parlando lui. Cioè in America il ristorante, ad oggi parlo, è proprio un business, cioè lo prendono come un business, quindi guardano soprattutto a quelli che sono i profitti, i margini, eccetera eccetera, mentre in Italia più al prodotto, la facciamo... Sì, ho detto tante volte, un ristorante senza un margine è un hobby. Se vuoi avere un hobby vai a costruire gli aeroplani e stai a casa. Ok, la tua prima esperienza nell'imprenditoria parte proprio con la ristorazione. Quando apri il tuo primo ristorante? Beh, mi è successo tante cose, sono andato in università, ho avuto l'opportunità di studiare a Boston College, ho studiato filosofia, teologia, tutte altre cose, pensavo di fare una viglia più accademica. Poi finisco l'università nel 1989, era il momento di Wall Street, no? Wolf of Wall Street che nasce proprio lì, tutti erano questo mondo, io cazzo... Allora mi sono trasformato, ho rinventato come Wall Street, faccio l'applicazione fuori di università, mi prendono e dal 90 per qualche anno inizio il mio Wolf of Wall Street. Ma che facevi? Il bond trader? Bond trader, sì. E cosa sarebbe nello specifico? Cioè di cosa ti occupavi? Scambiando azioni di debito, i bonds, non so come si dice in italiano. Sì, facendo il broker, diciamo. Investment banking, brokerage, sì, ma a livello molto importante. L'ho fatto per un paio di anni, poi anche lì ho fatto bei passi. Ti piaceva? Mi piaceva il concetto di fare tanti soldi subito, anche un'età giovane, avere il mio appartamento, uscire al ristorante ogni sera, però a un certo punto capivo che entro dentro questo DNA di imprenditore, e ho detto, sai che qualcuno decide quanti soldi farò ogni anno, non mi sta troppo bene, voglio io decidere quanto è successo. E da lì ho lasciato quello, prendo il mio premio e ho detto, ok, adesso mi metto in business, cosa faccio? E proprio mia mamma mi ha consigliato, perché non vai a fare un giro in Italia a vedere cosa trovi? E ho detto, buona idea, vado lì, parlavo italiano malissimo, peggio che lo parlo adesso. C'è rimasto in Italia? Sì, sì, ho cresciuto andando in Italia, nell'Istria, a Trieste, negli anni settanta, anche andavo nei viaggi culinari negli anni ottanta, allora un po' del mondo di cibo, di vino, ho girato tutti i ristoranti stellati, conoscevo qualche produttore di vino, mi vado lì, mi compro un Volkswagen Golf, cinque porte, 5 milioni di lire. Adesso è fonte, non ci prendi neanche un motorino. E inizio questo viaggio che parto da Trieste, casa nostra, arrivo fino a Pantelleria, di 18 mesi girando un po' Happy Style nella mia macchina, andavo da cantine, ristorante, facevo cuoco, cantiniere, conoscevo delle persone, capivo anche un po' il mondo di questi prodotti e pensavo come potresti trasformare questa capacità in un business vero. Dopo 18 mesi di questo epico giro, che l'ho scritto in tanti libri, se siete interessati potete leggere il libro, non ti racconto, però sono tornato qui e pensavo, già capivo che volevo fare il vino, che è una cosa che mi fascinava tanto, proprio il mondo del vino, tutto che girava nel mondo del vino, però avevo 22 anni, era un po' difficile dire ok mi metto a fare il vino. Allora ho detto mi apro un ristorante, allora ho scelto una zona anche vicino qua, Times Square, nel 1991, in presto 80 mila dollari della mia nonna Erminia, con questi apro il ristorante Becco, il mio primo ristorante, nella zona del teatro, perché non era la zona figa, però la zona sicuramente con meno rischio di fallimento, perché il teatro ti porta gente ogni sera, magari figo o non figo, la gente deve mangiare, ho detto ok, questo rischio, voglio minimizzare il rischio. Minimizzare il rischio di impresa, quindi c'è un piano. E se da fallimento non era un'opzione. Chiaro, certo. Ma quindi i tuoi nonni si sono confidati di te, prestandoti soldi, oppure erano un po' scettici inizialmente? La mia nonna mi ha prestato i soldi, avevo qualche soldo mio, lei ci credeva da sempre. Comandò quel primo ristorante? È sempre aperto? Anche era ancora aperto, vado lì dopo, adesso sono 32 anni, che va in continuazione, è cresciuto tantissimo, nei anni, come Times Square, come la zona dei teatri, sai come il primo ristorante ti sta sempre nel cuore. Dopo quello ho aperto 50 altri, però quello è sempre speciale. Certo. Posso sapere, io ogni tanto faccio delle domande un pochino più dirette, poi vedete se rispondere o no, perché è una roba che mi interessa e che lo chiedo sempre a ogni ospite. Più o meno un ristorante in una zona come questa, cioè si parla di Times Square Brody, quindi una delle zone più, penso, trafficate del mondo. Quanto può arrivare a fatturare mensilmente o annuale? Beh, ti do l'esempio di Becco, che nel 1992 abbiamo partito con un fatturato da, penso, da 3 milioni. Non era male che dopo il primo anno 2 si portava a casa anche il 20%, allora 600 mila euro. E si parla del 92, comunque. Anche erano tanti. E da lì ho aperto altri ristoranti, ma solo da lì a un certo punto ho comprato il palazzo accanto. Prima di Covid un ristorante come Becco nel 21-20 fatturava 13 milioni all'anno. Wow. E adesso dopo Covid che non si è ripreso totalmente siamo 9-10, cercando di tornare al 13. New York l'ha subito tanto il Covid? Tantissimo, sì, specialmente anche la zona Times Square, un po' tutto. Poi, sai, è cambiato tanto anche il costo di lavoro. Adesso con il margine del ristorante se fai 10% sei bravissimo. Maggior parte del ristorante marginano da 5-10% perché costa molto di più il costo del lavoro, il cibo, tutto si è aumentato tantissimo, stringendo molto il margine del classico ristorante. Su cui vuoi ci devi anche pagare le tasse o proprio 10% netto? Ma tu sai come funziona in America, no? Non è come in Italia dove le aziende sono tutte tenute in una cosa che si chiama LLC, Limited Liability Company. E lì non ci sono azioni, tu partecipi come una persona fisica. Allora se noi siamo soci in un LLC, tu hai 50% e io 50%. E l'LLC è totalmente pass-through. Allora se noi guadagniamo 200.000, tu prendi 100, io prendo 100, l'LLC paga pochissime tasse, anche un per cento di meno, e tu paghi ordinary income sul guadagno che tu fai sulla tua partecipazione in quella LLC. Ogni anno devi fare in tax. Giusto per curiosità, quanto si paga qui di tasse? È come in Italia, no? Alla fine se guadagni più di 200-300.000 dollari all'anno paghi 45. Dipende dove vivi. New York City è uno dei più cari perché paghi tassi federale, Stato e città. E sono alti e arrivi a 45%. Wow.